Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale, oggi ci andiamo a giocare i primi minuti di Atlas Fallen in modo tale da capire un po' con che tipo di gioco abbiamo a che fare, in realtà più o meno lo sappiamo, è un action RPG classico somiglia a un Darksiders, se ve lo ricordate sviluppato da Deck13 che sono gli stessi sviluppatori di The Surge e Lords of the Fallen e sono al lavoro anche sul reboot di Lords of the Fallen quindi diciamo giochi Souls-like mentre questo qui è un action GDR, RPG, puro quindi andiamo a vedere un po' come è siamo su PC beh, impostazioni grafiche al massimo, molto a tutto, basta vediamo ho provato a mettere il controller perché mi sembra proprio un gioco da controller ma o non me l'ha preso o... non lo so vedremo eh no lo sanno tutti, no? lo sanno tutti, no? so E sarebbe... Cervi che trainano carrozze non l'avevo mai visti. Cervi che c'era la combina. Cervi che c'era la morte. Cervi che c'era la morte. Cervi che c'era la morte. Ma che cosa sono? Questa luce... Mi chiede. Sembra un coso d'Avadar. Ok, non mi prende il controller. La cosa divertente è che se andiamo a vedere... Spegniti! Se andiamo a vedere nelle impostazioni controller... C'è il DualSense. Perché? Allora, dato che ce l'ho il DualSense... Attacchiamo velocemente. Vediamo. Vediamo se lo becca. È il DualSense. Vabbè, giocavo con il DualSense. Strano, non mi prende l'Xbox. Allora, guarda... Inverti visuale... ... 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 un'ascia enorme però c'è con l'attacco con la col quadrato dovrebbe essere l'attacco base l'attacco rapido triangolo è l'attacco pesante no si vede c'è un attacco con una sola pressione di tasto è un po lento la base è figata però è non mi sembra uno scontro alla pari can you help me a creazione del personaggio manco sapevo che ci fosse la creazione personaggi vabbè sì ci sono delle facce prima è lui lui e quelle queste colore dei vestiti ammazza i colori dei vestiti che fantasia mettiamo blu non ci sono Scusate, non ora! I Wraiths sono arrivati! Scusate, wake up! Oh, grazie al sole. Venite, andiamo con te. Tracker? Cosa è successo? Il Caravan ha stato attaccato da Wraiths. Ma non ha detto quello che c'era scritto nei sottotitoli? Stavo cercando dei salvatori, ma... ho solo trovato tu. Oh, grazie per tornare da me. Stavo in questo... sogno. Siamo spostati qui. Dobbiamo tornare al camp, ora! Però, che belle armature, eh? Abbiamo fatto. Grazie per salvare la mia vita. Sono un attracca. Trovare le persone perdono, è quello che faccio. Ancora, sempre abbiamo le nostre occhi. Ma... perché questo è successo? Questa route è sempre stata sicura. Non abbiamo fatto la nostra ruta. La Queen ha cambiato il nostro corso nel momento. La Queen? Perché dovrebbe pensare per un Caravan? Non lo so. Questo non è mai successo prima. Questi landi... sono costruzati. Le Wraiths sono ovunque. Ma i Guardi... devono aver proteggerti noi. Hush! Uno è venuto. Tu! Non lo so! Non lo so! Vieni al lavoro! Me ne recupero appena possibile. Capitano Morath dice che... andiamo quando la luce torna. Andiamo! Guarda quello, figlio. Non lo so. 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 Questa eclipsa è un uomo. I Guardi sono a piedi. Non li provocare. Cercherò di... non andare nell'occhio. non lo so. E li lasciano a morire? Lì, erano riusciti prima di pensare di salermi. Che credi? Parli con gli altri. Dobbiamo permanere. Triciare di mantenere la morale o si morirea qui. Con chi devo parlare? Che è già scritto comunque. Sentinella, Fabbre e Pastore. Vabbè, era già scritto. Va bene così. Allora, Lara, Sentinella. È pericoloso andare da soli, la modalità cooperativa è ora disponibile. Perché sì, questo gioco ha la possibilità di essere giocato completamente, interamente, in cooperativa sin dall'inizio, in pratica, anche perché non abbiamo ancora cominciato. Ha buttato costruttore nella tempesta. Dobbiamo rimanere insieme. Ah, ecco perché abbiamo nomi, per quello che facciamo, non abbiamo nomi. Sicuramente. Ma che buono fare un giocatore? Abbiamo le spade, amico. Non abbiamo anche l'armatura. Non deve finire in un combattimento. Prima, bisogna arrivare insieme. Sei vero. Come poter fare il califero quando posso. Bene. Grazie, fratello. In un momento, questa rade è avvenuto a farcibarciare. Sicuramente. Non avremo bisogno di combattere. No, no, no. Pastore. Pastore dei sticosi. A parte che sembrano degli alci enormi. Guarda che corna gigantesca. Sono più grosse le corna di lui. Anche se... Ci hanno gli occhi da pecora, però. Vabbè. Cosa stai facendo? Che fai a lavorare, prima che i giocatori vedono a ci spade. C'è qualcosa che succeduto? Cosa? Non, non ho. I giocatori sono... Sono vicini. Non voglio... Non voglio essere scoperto. C'è un'altra cosa che pensavamo, che dovremmo incontrare nel campionale. Solo per parlare di ciò che è successo. Siamo. Oh, non. Ci sono scoperto. Vabbè non parlai Non è che sei costretto Intanto vieni ad ascoltare Fuoco E allora farà tutto schifo Senza sale non si può mangiare Muscolacci che c'è questi Sì riprendiamo a martellate anzi Con la mazzola Bene ci vediamo al falo Cosa 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 Allora, prima bel gavito comandata. Vediamo il piano super articolato che ci porterà a diventare liberi. Ottimo punto. A loro serviamo B. Saremo anche di più, ma male equipaggiati. Saremo giudicato. Saremo giudicato. Ma dovremmo fare attaccare. Quali cosa succede, la cosa più importante è che stiamo insieme e rimando sicuro. È come Moroth si tratta. Quindi se si accettiamo, passiamo a passare la mattina e agiamo quando siamo restati. yes together together ok let's get back to work you what are those workers doing I don't know of course you don't Captain Morath I... be silent I shall see for myself venghi venghi Captain Morath meno male che non dovevamo combattre no back to work all of you now the philosophy is watching have you seen the mess we're in and you sit around doing nothing beh non c'è una legge che vede di parlare there's no law against having a conversation even for us unnamed you dare you dare to we need you to listen to us now or we'll all die all'accampamento all'accampamento dipende da noi avete bisogno di noi run me through run me through see how long you survive without workers to move the essence or cook your food hmm you all think this is easy don't you how typical child be careful that's the problem with people like you overwhelmed by savage self-preservation i did not ask for this either velos challenged us to survive in this storm our god is watching us and this charade puts us all at risk you ringleader you dare talk back to me then you'll be perfect for a task I have in mind captain you have to listen to us silence one of your kind stole something from me and ran into the wastes find it we may reach in accord it is death out there don't la nostra gente ne ha bisogno quindi dobbiamo trovare il ladro perché così si chiama ah così nudi senza equipaggiamento niente neanche un bastoncino niente tremors probabilmente foglie di fuoco no materiale scoperto come closer what is this here I am here what is that closer yes I feel you closer something's calm no why who are you where are you un guanto parlante chi l'avrebbe mai detto poi 20 metri 30 metri dall'accampamento possibile che nessuno l'abbia visto l'abbia Ottimo Noi abbiamo sconvinto Non spettro Polvere di essenza E appena ottenuto della polvere di essenza Puoi ottenere polvere di essenza Sconviggendo i nemici Ok questo è l'attacco alternativo Quindi ve lo pesate Basta tenere premuto Può generare impeto colpendo nemici E sconfiggendo L'impede aumenta i danni che infliggi Ma anche i danni che subisci E' temporaneo Se non colpisci i nemici dopo un po' svanirà Interessante come cosa Quindi siamo delle pippe All'inizio ma aumentando l'impede Faremo un botto di danno Saremo anche più vulnerabili Ai danni nemici però Che cosa interessante Quando generi abbastanza impeto Le tue armi diventano più grandi E più potenti Le tue mosse disponibili cambiano Questo stato viene chiamato Ascensione Ascensione When you keep up the momentum The energy release by the gauntlet Be careful As momentum is a double edge trade Grace will become stronger More energy you harness Con che tassa L2 E poi X Quest'azione Consumerà una delle sue cariche E fin qui Per ripristinare L'energia dell'idolo Colpisci i nemici Quando avrai ripristinato Abbastanza energia L'idolo riacquisirà Una delle sue cariche Molto bene Quindi L2 Più X Perfetto Quanto sono bello però Quanto sono bello però Va bene Doppio salto Ok L'abbiamo sbloccato Quanto sono bello Telecamera Una volta locato il nemico Non si può muovere la telecamera Ma proprio il massimo Pazza che salto Lunghi che fanno Però Vorrei locare Il nemico più vicino Ma non riesco Ok Con l'altro passeggia Non mi viene preso niente Con l'altro ancora Mi sa che è caduto Di sotto Si combatte bene E anche senza locare i nemici Però Molto bene Dove è andato il ladro? Eccolo Eccolo Ladro Voglio quello che hai rubato Dove stavi andando Voglio quello che hai rubato Ammi quella cosa Ammi quella cosa Ammi quella cosa Che io Perché devo fare tutto il giro Beh Forse non era poi così alto Vabbè Con l'altro Con l'altro Con l'altro Che è quello? Non lo so 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 Quindi è il mio Cursa! Scusa questo! Inizio! Ora! Scuserò questo! Cursa tu, Morath! È venuta... con il caudetto. E quella voce è venuta anche. Ho bisogno di tornarlo. Ho bisogno di trovare loro. Potremmo... Potremmo Tracker può aiutare. Tracker... Cercatrice l'avrei... tradotta con... Cioè... La traduzione è al contrario. Però sarebbe stato meglio un Seeker. O no. C'è quello che succede. La traduzione è venuta... Con i Vastigar. L'hanno usato per defiare la Queen... 10 anni fa. Per salvare la gente. Ma... erano erano davanti? L'hanno erano. Ma il Gauntlet ha parlato a te. Te devi riuscire. Per salvare la gente. Potrebbe salvare noi tutti. Morath fu fuori l'Upper Camp. L'hanno cercando di lavoratori. Diceli che io ti sento. Io... Siamo... Siamo contando di te. Bene. Quindi... Fammi passare. Guarda. Mi metto pure a correre. Pecchino. Cosa c'è? Qui dentro... Ah! Non ho più il doppio salto. Venditore ambulante. Che cosa venderà? Soprattutto con cosa bisognerà pagare. Venditore. Ho visto cosa hai fatto nel campionale. Tu hai garanti. Non ho chiesto di te chiedere, naturalmente. Ma è un piacere che te metto. Um... A stanza. Non credo che ci siamo conosciuti. Ah... Ah... Mi nome, ovviamente. E... 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 Invece... E... Mio... Wow! Invece... No! Non al contrario, certo. Ma ancora... E... Dipende cosa vendi. È un'armatura. La compriamo. E l'equipaggiamo. Non ho capito perché non dovrei farla. Ok, che sono uno schiavo. Ma chi se ne frega. Ah, arda là che bellezza. Uno schiavo in armatura. Se hai venuto a volentieri per andare fuori, sei il mio chiesto. Sì, non voglio più sentire. Beh, un'altra domanda per me di preoccupare. Ma davvero di qua dovevo andare? Sì. 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 Non c'è nessuno. E questo uccionista è qui. C'è me. Deve essere dentro di questa cava. Tu... Return the Gauntlet! Guards! Pathetic! I should have expected as much from one of your kind. When will you learn? You are unnamed for a reason, and no one will ever notice one more dead unnamed. Wait. Return to me. Where am I? You are here. I was... I was... Why did you leave me? I didn't. You were taken by Morath. I see. Thank you for coming back. Now it is my turn to keep you safe. Uno spettro potente, quindi il primo boss. Watch. I can protect you. Pelle di sabbia. Premi L1 per attivare la pelle di sabbia e parare gli attacchi. Il rosso lampeggiante che appare prima degli attacchi indica il momento ideale per usare pelle di sabbia. Oh, c'è la parata. Perfetta. Una parata riuscita a zero è il tempo di ricarica della pelle di sabbia. In questo modo puoi riutilizzarla immediatamente. Vediamo. Proviamola. Vedete? La mia pelle di sabbia sarà cristallizzata. Ma non durerà lungo. Non l'ho premuta quando c'era il bagliore. L'ho premuta quando... Quasi. Ah. Anche perché il bagliore lo fa proprio all'inizio. Però... Non funziona. Non funziona. Non funziona. Speriamo per questo scuola. Speriamo. Qual è... Sei? Un sole di qualche tipo? Non lo ricordo. Ma il nome. Thelos... Lo conosco. Thelos... Frusta di sabbia Sabbia Con un abiso La frusta di sabbia crea armi sia dell'oppresso che dell'oppressore Per ripristinare le qui Certo Puoi decidere quali tipi di armi sono principali e quali secondari Imposta la frusta di sabbia come arma secondaria tremendo il triangolo Ok Quindi come Darksiders Uguale no? Indicatori fuori schermo Sono fuori dalla via Allora presente Indicatore bianco L'indicatore diventa rosso quando il nemico inizia ad attaccare Quindi possiamo fare Il coso De sabbia Certo ci devono prendere però Quindi col triangolo non si fa l'attacco pesante Ma si fa l'attacco secondario Con l'arma secondaria Tenendo premuto dovrebbe fare No? L'attacco pesante Che si fa l'attacco pesante anche tenendo premuto il quadrato E dà tutto maledettamente senso Quando potrò scivolare sulla sabbia? Anzi surfare sulla sabbia A questo punto A questo punto penso che dovremmo tornare dalla caravana E liberare i nostri compagni Ma forse magari se sono No? Boh Adesso è in Arligo Prima era un oggetto maledetto È il mio L'attacco pesante La sua propria pesante Questo non è bene Tu hai avuto abbastanza problemi Io lo farò Capitano È la Queen Aaaaaah 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 Si è infervorato Un po' Un po' tanto Un po' tanto Oh eccoci qua Che surfiamo sulla sabbia Finalmente Il sand è sotto il nostro controllo Il carriera Sì Ok Ok Tu devi sapere che stai facendo Perché io non Nemmeno io Figo però Oh eccoci qua just one me next time I was going to die sorry my mind is blurry at best the queen the watch we have to get away from them my friends they'll be going to the capital battiamo sugli ostacoli e rimbalziamo come in un flipper così non abbiamo più velocità esattamente sfuggi dal guardiano in che senso tracker mentioned the knights of bastingar used the gauntlet in the past they must know more about you the knights bastingar it sounds so familiar yes let's find these knights before we reach the capital preferably there is a passage ahead you mean a hole wait trust me ah doveva andare così oi can't feel my legs my sands will cushion you mostly we should be pretty far from the caravan now back there someone guided the watcher the queen the queen the queen yes the thousand year queen she is the avatar of theos i know this it is all very puzzling but we have escape for the time being we should keep going i sense people not too far from here there is a settlement near by ok probably probably lo vedremo la prossima volta vabbè ragazzi questi erano i primi minuti iniziali di atlas fallen devo dire che è comunque un progetto interessante soprattutto per coloro che a cui piacciono i giochi di ruolo action classici anche un po' datati dal punto di vista concettuale come per dire un darksiders è uscito da un sacco di tempo però non vedo perché questo non possa rivelarsi un gioco buono che possa piacere a a tanta gente alla fine la cosa che bisogna vedere andando avanti per forza nel gioco è che non è un open world alla forespoken anche se il mondo un po' gli somiglia no? però è diviso in macro aree quindi bisogna vedere come gli sviluppatori hanno curato queste aree come le abbiano quanto sono ricche insomma come le hanno strutturate perché è una cosa importante dato che il gioco si basa su combattimenti ed esplorazione quindi comunque l'esplorazione deve essere interessante stimolante quindi questa cosa la vedremo sicuramente andando avanti nel gioco potremmo anche farci una serie volendo bisogna vedere un attimo il tempo perché tra un po' usciranno altri giochi che per esempio Shadow Gambit Gord che magari lì non ci faremo una serie ma comunque sono giochi da approfondire arriverà Armored Core poi il gioco di EA quello lì dei maghi che adesso non mi viene il nome ah Immortals of Avium a settembre il 6 settembre arriva Starfield quindi periodo in cui c'è un sacco di roba a distanza di una settimana arriveranno nuovi episodi di Expanse quindi ogni due settimane ne arriva uno quindi comunque c'è un sacco di roba cosa positivissima allora innanzitutto tecnicamente dal punto di vista degli della stabilità del framerate non ci sono non c'è stuttering cioè il gioco è fluidissimo non ha alcun problema quindi niente da dire poi tecnicamente sembra una produzione cross gen da quello che abbiamo visto anche se se non sbaglio è uscito solamente su next gen questo gioco però non è neanche scandaloso se la cava bene diciamoci la verità se la cava non è eccelso da quel punto di vista però magari non è un tripla è un doppia non lo so sta cosa non la so vabbè quindi niente ragazzi comunque feeling positivo sensazioni positive quindi staremo a vedere magari ne riparleremo in futuro o come detto ci faremo una serie io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao